E' stata chiamata Spettro, l'attività di indagine della Guardia di Finanza di Urbino, che ha stroncato un giro di numerosi illeciti rilevati in materia di reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio, posti in essere da uno stesso gruppo familiare che ricopriva vari incarichi all'interno di una cooperativa onlus operante nel settore socioassistenziale e di un'altra società di servizi collocata nella stessa sede. Le indagini hanno riguardato prestazioni a largo spettro fatturate dalla società di servizi in adempiente a livello civilistico e fiscale alla onlus in due annualità per quasi 700.000 euro e rivelatisi gonfiate doc al fine di generare crediti fiscali inesistenti nonché ad eludere la normativa che limitava la distribuzione degli utili ai soci. Indagini che sono state portate avanti attraverso intercettazioni telefoniche, analisi del contenuto di computer, smartphone e server aziendali sottoposti a sequestro durante perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati. Le attività di indagine hanno riguardato anche una richiesta di decreto ingiuntivo per oltre 400.000 euro formulate al Tribunale di Urbino sulla base di documentazioni rivelatesi false o manipolate. L'operazione ha così portato a segnalare all'autorità giudiziaria i componenti delle compagini sociali delle due società coinvolte, gli amministratori e due commercialisti che a vario titolo sono risultati coinvolti in relazione all'ipotesi di reato, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché di omessa dichiarazione autoriciclaggio, falso indotto in atto pubblico e falso nelle attestazioni relazioni del professionista, nonché di mendaccio bancario e false comunicazioni sociali. È stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Urbino sulla richiesta della Procura per quasi un milione di euro con il sequestro di liquidità finanziarie, beni preziosi, quote societarie, tre automobili, immobili e terreni nella disponibilità delle persone indagate. Tra l'altro è stato anche rilevato come il villino adibito a residenza di uno degli indagati risultasse essere in realtà censito a livello catastale come un capanno agricolo. A livello tributario sono state concluse attività di verifica fiscale finalizzate alla riqualificazione dell'attività aziendale svolta dall'Onlus in quella svolta da una società a scopo di lucro, disconoscendo oltre che i costi per fatture e per prestazioni inesistenti anche ogni tipo di agevolazione fiscale adottata dalla società in virtù del suo status giuridico quantificando per oltre un milione e mezzo le imposte dovute dalla società.